Cosa pensa lei dei meridionali che vivono qui? Ma, mica tanto bene. Io la macchina la sono comprata, loro sono arrivati, mi hanno dato macchina e pare anche la casa. E allora che cosa vuol dire con questo? Beh, cosa vuol dire? Che se stanno nel suo paese è meglio.